A poco più di due settimane dalle elezioni europee si intensificano gli incontri di dibattiti, la sinistra, la lista unitaria promossa da Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana, l'altra Europa ed altre formazioni che fanno riferimento alla sinistra europea presente i propri candidati. Acerbo la campagna elettorale per queste europee entra nel vivo, si denota però una certa disaffezione a parte dell'elettorato, è così? Ma direi di sì anche perché non c'è un dibattito su cosa hanno combinato le forze politiche in Europa anche perché sono stati complici. Per esempio la Meloni dice cambiare tutto ma ha votato insieme al centrodestra tutti i trattati europei. Salvini sbraita, ieri erano euro, adesso è alleato con quelli che chiedono di fare lo scalpo all'Italia e lo hanno fatto anche in occasione dell'ultima legge di stabilità. Una sinistra antiliberista, antirazzista, femminista ed ecologista si aggira per l'Europa. Questo in sintesi il senso della lista alla sinistra, non una sommatoria di sigle ma uno spazio aperto, un terzo spazio, così come è stato ribadito nel corso della conferenza stampa la quale hanno preso parte anche l'europarlamentare uscente, Eleonora Forenza e la candidata abruzzese Viola Arcuri. È importante andare a votare anche se c'è questa disaffezione però ribadiamolo, è importante il 26 recarsi alle urne. Certo ed è importante non votare la Lega. Io lo dico assumendomi le mie responsabilità, chi vota la Lega tradisce il nostro territorio e chi ci si candida si dovrebbe vergognare perché la Lega se andate a controllare ha depositato il suo statuto al Ministero insieme a Simbolo e si chiama ancora Lega Nord per l'indipendenza della Padania e ha come obiettivo la secessione che sta oggi perseguendo in altra maniera, cioè attraverso la cosiddetta autonomia differenziata che consentirà alle regioni ricche di diventare più ricche di aumentare il divario tra nord, centro e sud.